Cari fratelli e sorelle, in questo anno 2012 è arrivato il giorno della verità. Per secoli vi hanno preso per il culo. I miei predecessori vi avevano amminacciato di ricevere il verne tortore tra le fiamme dell'inferno. Non era vero niente. Ci siamo diventati tutto. È l'ora di smettere di credere nelle favole che hanno portato l'odio e la violenza, nelle famiglie e tra le nazioni. Senza superstizione e attraverso una sincera ricerca del vero e del bene, la dignità della persona umana è rispettata. Non serve la Vergine Maria per la coscienza morale, né c'è bisogno di Dio per la convivenza civile. Per questo ho deciso di togliermi questo costume da buffone e di darmi alla mia sincera passione per il rock.